Buon pomeriggio a tutti, qui Est & Guest, ai microfoni sentite Enrico, Michele e Nicolò. Yo! Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Michele in arte Canova e vabbè Nicolò e Donico o comunque uno dei nomi di artisti, forse non di più storpiato ma forse è nella top 10. Storpiato sempre allo stesso modo però. Che è Donico o è Donico, ok, quindi ho detto bene, questa mia missione della giornata è superata. Ma perché è Donico? Me la fa lei la domanda. Mi sono sempre chiesto. Io chiederei se puoi venire un pochino più vicino, grazie. Dovrei saperlo. Devi dare del lei al maestro. Sì, 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 sì. Adesso sei stato redarguito. Perché è Donico? Non ti ho mai detto? Sì, no. Beh, in realtà perché volevo un nome che avesse… Capisco che c'è Nicolò dentro. Sì, 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 che volevo che ci fosse Nico, dato che è stato chiamato Nico. Le primissime cose le ho fatte sotto il nome di Nico. Ok. Anche per… mi piaceva Velvet Underground più Nico. Ma Edo? Edo perché in realtà volevo una parola che avesse dentro la parola Nico, che è quindi Edonico, che è giusto in italiano Edonico, legato all'edonismo, l'oggettivo legato all'edonismo, che è comunque una corrente filosofica che mi è sempre piaciuta, anche se io non seguo il piacere come un'unico fine, però sì, mi piaceva questa parola, quindi poi è diventata Edonico. Cioè anche tu dici giusto Edonico, no? Sì, è giusto Edonico, ma in italiano è giusto Edonico. Perfetto, abbiamo confuso, abbiamo confuso. I qua sono tutti audio-video ascoltatori, li chiamiamo così, chiaramente. Perché siete qua assieme? Mi chiedevano prima, ho incontrato uno, mi ha detto, ma perché Canova ed Edonico assieme? E la risposta è che siete entrambi veneti. Sì. Non c'è un'altra risposta in realtà, ok? Gli ho risposto bene prima qui. Perfetto. Non c'è nessun altro rapporto tra di noi. Dove conoscete tutti comunque di nome? No, è che le bestemmie ci uniscono. Ah, ok. Come intercalare. Come intercalare. Voi siete venuti a Milano per divulgare… La parola. Però diciamo che ha un altro valore nella nostra regione, e perciò ci siamo conosciuti, ovviamente per motivi musicali, nel mio studio. Ma in effetti essere veneti unisce in una città che ovviamente accoglie tantissimi veneti e che io ho frequentato molto prima di andare in America e che sto rifrequentando adesso da quando sono tornato a Milano. Però non so, non avevo mai trovato una community di veneti come sto trovando adesso. È una cosa che forse solo non era nella mia… Cioè a Elei non l'hai trovata. A Elei non l'hai trovata. In effetti ho trovato un pochino, ma piccolissimo. Di Padovani tra l'altro proprio a Elei. Però ecco, Nicolò non è il primo, perché il mio assistente adesso attuale che arriva dall'SAE, Nicola, è di Vicenza, di Malo. Ma non solo, ci siamo conosciuti, direi negli ultimi sei mesi, io e te, ma c'era qualcun altro, c'è qualcun altro che frequenta lo studio. Beh sì, c'è un artista che ho appena firmato di Bassano del Grappa, Eva Blu, ma di più ancora. Cioè di colpo mi trovo circondato da cinque o sei compagni veneti. Però vedi che è una cosa della nostra generazione quasi. Può darsi. Perché prima, se ci pensi, l'unico veneto famoso in Italia è tipo Del Piero. In effetti sì. Ah vedi, lui è veneto, non lo sapevo neanche. In effetti dopo Madame, dopo Madame e dopo tutto il giro, no? San Giovanni. Da Bias, che è dal produttore, e da San Giovanni, da Gian Maria, da tantissimi, da Nicole che fece amici. La Michelin? La Michelin però è di un'altra generazione secondo me. E' bastano del Grappa anche lei, però non è della generazione di Madame, capito? È di dieci anni prima. Però dico, forse la Michelin è stata la prima in effetti veneta. Veneta di una certa rilevanza nel pop, parliamo della musica. E invece ora siamo circondati. Non solo quindi la scuola napoletana. Intanto è arrivato il nostro... Lola? No, ma secondo me, io posso stare qua, faccio un po' di pet therapy, che comunque mi fa bene. Sono un po' agitato. No, esatto. Quindi oltre ad essere veneti in realtà fate anche musica. Su Michele, insomma, da un po' di anni e hai vissuto diversi momenti, diverse ere. Hai iniziato anche, per chi non ti conoscesse, insomma, sono rimasto abbastanza folgorato leggendo la quantità di progetti che hai seguito e di cui hai fatto parte. Quindi per chi non sapesse nulla di te, andate ad approfondire un po', perché c'è veramente un mondo, partendo chiaramente da perdono, che è la cosa che secondo me più colpisce, perché comunque non associare una figura a quel periodo di Tiziano Ferro, non so, magari uno, cioè io pensavo che magari per dono avesse, cioè fosse tutta una roba sua per dire, no? Certo. E invece... Ma in quel momento lì ancora non c'erano grandi esempi in effetti di artisti che si autoproducevano. Ok. Anche perché la produzione era una cosa in qualche modo più difficile, no? Nel senso mancavano i tools che ci sono adesso, mancavano... eravamo all'inizio del digitale, addirittura... Beh, era il 2001, ma l'Italia è sempre stata un po' più indietro, perciò... Però c'era la lira, comunque. C'era ancora la lira? No, quando è? 98? Ah, 2001. Ah, 2001, ok. Sì, allora quando io lavoravo con Tiziano Ferro, c'era ancora la lira, in effetti. Pagavate i caffè... Pazzesco, però no, era... Sì, perciò non era tipico che ci fosse l'artista che si autoproducesse. Diciamo che un portatile o un computer che ti permetta di registrarti in maniera professionale è cominciata seriamente ad arrivare dal 2006, 2007, 2008 in poi, e non erano ancora perfetti, no? E nel... L'ho conosciuto nel 2000, io già lavoravo dal 92, ho cominciato a fare i primi dischi, pensa... Perciò avevo 19 anni, 18 anni. Scusa, 20 anni nel 92, ma ho cominciato nel 91. A 19 anni, per la BMG Ariola, e perciò era un altro mondo, cioè dove comunque c'era un'attrezzatura necessaria per poter portare a termine e finalizzare un prodotto che non potevi avere a casa, dovevi per forza rivolgersi a uno studio professionale. In qualche modo c'era un filtro, no? Mi raccontava anche, perché è stato qua Jack the Smoker un paio di settimane fa, che in realtà dieci anni dopo, rispetto a quello che stai raccontando tu, loro avevano comprato una CAI, cioè il suo gruppo aveva messo assieme i soldi per comprare una CAI e poi non sapevano cosa farsene. Quindi alla fine Mace, con cui erano nello stesso gruppo, aveva iniziato a fare i primi bit in realtà con il computer, perché la CAI l'avevano preso, praticamente l'avevano lanciato dalla finestra. Io ho iniziato con la CAI S900, che è una delle prime cose che ho comprato, ed era un campionatore che aveva dentro 8 secondi di campionamento, ed era già il massimo che tu potevi campionare consecutivamente erano 8 secondi, ma anche spezzati. Perciò se tu avevi una cassa rullante, una IET, un loop, una cosa, il totale di questi campioni non doveva essere più di 8 secondi, ma era un lusso rispetto a chi ha iniziato 6-7 anni prima di me, l'hipope è nato con l'SP12 all'inizio della EMU, che è una batteria elettronica che in più gli avevano messo un secondo di campionamento, e in quel secondo comunque riusciva a farci stare tu, una cassa, un rullante, una IET, capito? In totale faceva un secondo, e poi avevano deciso, visto che aveva avuto successo, di espanderlo in una versione che si chiama EMU SP12, in cui hanno messo, mi sembra, 3 secondi e 2, adesso potrei dirti un secondo in più, un secondo in meno, comunque è una roba ridicola, e tutti i dischi hip-hop storici sono stati fatti con quella batteria elettronica che campionava a 12 bit, e in 3 secondi e 8, cioè la storia della musica hip-hop è stata fatta in 3 secondi e 8 di memoria, oggi abbiamo computer che possono registrare, si sta invecchiando, non solo annoiandosi, ma vedo e Donico che sta invecchiando, sta invecchiando a vista d'occhio, quando comincio a parlare fermatevi, no, però dico che è incredibile che in un limite così grande, una memoria così piccola, si è fatta la storia dell'hip-hop, tutti i primi dischi, poi si è passati all'MPC e agli Akai, ma che comunque non è che avessero, avevano 8 secondi, capito? Oggi, ripeto, abbiamo i campionatori infiniti virtuali dentro Logic, Fruity Loops o qualsiasi software che tu usi, o live, è la musica migliore o peggiore di quelli hip-hop? Non lo dica, Donico. Non saprei rispondere. No, però comunque, tutta quella, sempre leggendo alcune cose che, insomma, di altre due interviste che raccontavi, è che appunto il gap tecnologico portava uno spessore, una dimensione del suono diversa rispetto a quella, anche una stitica sporcizia per il suono, comunque... Sì, se posso dire una roba su questo, no, è interessante un aspetto, chi è passato da quella generazione, ma per esempio io mi ritengo giovane rispetto alla generazione che aveva registrato su nastro, io il nastro l'ho sfiorato, nel senso ho usato il nastro digitale, che è molto diverso rispetto al nastro analogico, che è quello poi di cui tutti decantano le virtù, no, cioè il fatto che tu registrando su nastro puoi saturare, alzare un po', adesso lo spiego semplicemente, ma stai registrando un bass, un chitarre, una batteria, una voce, decidi di alzare il livello di registrazione perché il nastro ha una capacità di distorcere in maniera positiva, con delle armoniche pari, insomma, in poche parole, quella roba lì, chi ci è passato, i racconti della generazione prima di me, dice sì, Michele, però il problema era che il nastro si disalineava sempre, non suonava mai bene se non l'alineavi bene, se durava solo 20 minuti, 15 minuti, dovevi tornare indietro, ci metteva tre minuti a tornare indietro, cioè, allora, ti posso dire io, sono passato attraverso quei campionatori che in qualche modo davano un layer, una sporcizia, però, ti voglio vedere, tutto il giorno stare lì a schiacciare un tastino per campionare 0,1 secondi, sbagliarlo, oggi possiamo permetterci di campionare, addirittura di registrare un intero vinile dentro Logic, puoi tagliarlo noi con dei tools, con il mouse, posizionarlo dove vogliamo, una volta era un casino, perciò, i vantaggi, oggi possiamo avere i vantaggi di una volta, perché con dei plug-in, ma anche con delle attrezzature più moderne, possiamo creare quel suono lì, quella sporcizia, senza gli svantaggi di una volta, ovvio che se tu hai 20 anni oggi e vuoi provare il nastro, è una figata, cioè nel senso nella tua testa, ma è veramente una figata, perché dici, ti compri una, a parte che costa una follia, trovare il nastro, però poi, dopo, sono sicuro, perché quello che poi è successo a me per altre cose, dopo sei mesi che tu usi il nastro e ti rompi i coglioni, perché alla fine oggi, se siamo arrivati a questi tools che abbiamo oggi, c'è un motivo. Certo, e volevo partire un po' chiedendovi con che musica siete, con che artisti, con che musica siete cresciuti in macchina, cioè nella macchina dei vostri genitori, io ho ben presente questa immagine che vale appunto per la mia adolescenza, spero anche per la vostra, di mio padre che mi distrugge la vita con Bob Dylan in macchina, non ho ascoltato nient'altro che Bob Dylan nei viaggi per andare in montagna, per andare al mare, da qualunque parte, quindi volevo sapere qual è stata la cosa con cui i vostri genitori vi hanno proprio turbato. Parto io perché non ho dei genitori particolarmente, diciamo, abbezzi ad ascoltare musica, però ricordo, il mio primo ricordo, sicuramente Vasco Rossi, tantissimo, Dire Straits, Alan Farson Project, mia madre, e Tiziano Ferro, mi sa quel disco lì, come si chiama, 111? Ce ne sono tanti, 111? 111 esiste. Il secondo, sì, sì. Mi sa quel disco lì tantissimo, mia madre, sai, quando mettevi il cd in macchina poi non lo cambiavi mai, quello c'era. E anche un altro disco sempre suo dopo, quindi ti dico questo, è tanto cantautorato italiano, cantautoriano, qualsiasi, dinne uno, se no. Poi il Veneto, vabbè, non so, è bello parlare del Veneto, però dico, concilia l'ascolto in macchina, perché… È molto country. Sì, esatto, c'è molto verde, fai questi, mi ricordo delle mie gite, ogni estate mia madre mi portava a Caorle, che è una località vicino a Jesolo, in macchina. Come si chiama? Caorle, si chiama, è una posta di mare dove facevo 15 giorni, non so, ogni… Io abito lì vicino. È vero, due abiti vicino a Concordia Sagittaria, si può dire due abiti o domani vengono gli stalker? Beh, probabilmente possono capire dove abito, però chi se ne ha. E perciò mi ricordo un'ora di viaggio in questa Renault 5 col cambio francese, con la cloche francese qui, in cui appunto si ascoltava una cassetta o la radio, io ho tanti ricordi fortissimi, scusa, tu stavi continuando o ti stai interrompendo? Di sabato, io facevo una scuola, penso come tutti, si andava ancora a scuola al sabato quando ero piccolo e mia madre, però al sabato era mezza giornata. Sì, sì, fino alle 12, una roba del genere. Perciò mi veniva a prendere, c'era la super, non la super classifica, c'era il radio 2, la classifica. Ok. E mi ricordo fermamente quando ho battiato, era in classifica, era sempre primo, sul ponte svento la bandiera, con tutto quel disco lì e mi ricordo io che aspettavo di ascoltare la classifica, ma non perché fossi un matto che già volevo, però era un momento di sentire la musica pop, no? E forse non avevamo ancora le cassette, capito? Sono così vecchio che non c'erano le cassette. Poi invece mi ricordo… Avevi battiato in macchina? Sì, l'ho ascoltato. Era lui, lo veniva a prendere a scuola. E poi mi ricordo tanto in macchina, mi ricordo quando io ho avuto una macchina, appunto, che poi era sempre quella reno 5 di mia madre, dove mi era fatto un sistema, il CD che però dove mette la cassetta dentro, perché grazie, non essendoci un ingresso per il CD audio, c'era una cassetta con un filo, e questo filo entrava nella uscita del CD jack, insomma, una tamarrata, e poi saltava, però ascoltavo i Cure, tantissimo, uno dei forse miei gruppi preferiti, ho ascoltato tantissimi Cure in macchina. Però ti dico che, cioè, io ho fatto la patente dieci anni fa, cioè, sembro giovane, ma ho la patente da dieci anni. Ah, cazzo, ma che rinnovare. Ah, io l'ho fatto l'anno scorso, quindi te la mette è passato un anno. E quindi anch'io, cioè, mi ricordo, cioè, non c'era subito il Bluetooth, cioè, almeno nelle macchine vecchie. Ma no, ma io sto parlando ancora di prima. No, quindi anch'io, in realtà, un primo periodo in cui mettevo i dischi in macchina, e ho ascoltato tanto Carmen Consoli. Ah. Sai quel disco, quello… Ma io invece l'ho sempre chiesto, ma chi va a sentire Carmen Consoli? Canta come lei al concerto? Cioè, in che senso come lei? È come dire, a Eros Ramazzotti tutti la fanno notare. Sì, però è diverso. È una minchiata che sto dicendo, chiaramente. Sì, anche perché non è che mi ricordo, perché non è… Ramazzotti posso capire, no? Fai magari l'imitazione con la voce media, mediosa. Beh, però io penso… Lei cos'è che ha di particolare? Cioè, al di là che… Tipo… Fiori d'arancio. Ah, è vero. Non mi ricordavo, è vero. L'ho fatto bene. Le arti con la tua. Sì, secondo me no. No, no. Io mi ricordo, giusto per dirvi una cazzata, nel 95, l'anno in cui lei ha fece Confuse e Felice Sanremo, io ero a Sanremo. Era il mio primo o secondo Sanremo, per dirvi quanto vecchio sono. E mi ricordo di lei, piangente, non so perché, forse per lo… dopo che hai fatto la prima esibizione, c'era ancora un hotel che non esiste più, si chiamava Hotel des Etrangères, dove andavano tutti, bene o male, non so se è solo una cascografica, quasi tutte le cascografica andavano lì, forse Lucia se lo ricorda, non lo so, boh, des Etrangères, e mi ricordo lei, io ero già… non ero stato al Teatro Ariston, perché avevo un artista nei giovani, ma forse non mi hanno neanche fatto il pass, aspettavo che tornasse, e mi ricordo lei che torna da essersi esibita, e che piangeva, forse per rilasciare lo stress o la cosa, ma era già una mia… cioè mi piaceva tantissimo quel pezzo, Felice spancava, e per me era… poi mi sembrava… non c'entrava niente, ma mi sembrava che portasse il Grunge in Italia in qualche modo, capito? Sì, ci sono delle strumentali quasi industriali, al suo… No, proprio Grunge, lei aveva sentito Nirvana, chiaramente i suoi produttori, lei aveva un produttore barra mecenate, bravissimo, che poi morì siciliano, che l'aveva… non mi ricordo il nome, ormai mi dimentico tutto, fa parte della vecchiaia, però che non solo era molto colto musicalmente, viaggiava, e secondo me aveva portato dei dischi fighi da Seattle, del Grunge, comunque c'era una… la Catania era avantissima in quel periodo musicalmente. Ma sei… non per fare name dropping, perché veramente non è il caso, però l'altro giorno sono venuti qua con la pesce di Martino, e mi hanno detto che Catania la chiamavano la Seattle nella Sicilia. Non è vero, è verissimo, sono venuti più di una volta produttori incredibili a Catania a registrare, Nannini stessa, Gianna, fece dei dischi con una band, ormai non mi ricordo più i nomi, ma con una band famosa di Grunge siciliana, con questo mega produttore americano che veniva lì. Assurdo. Cioè, assurdo. Catania spacca, si è spaccato musicalmente. Con la nostra… cioè, con la mia concezione milanocentrica, la vostra invece venetocentrica, certe cose ci meravigliano, che è anche quasi offensivo nei confronti di uno… No, direi sì, nel senso che comunque la Sicilia ha sempre avuto una grande cultura musicale, sempre. Adesso, per esempio, c'è una zona… c'è un momento del rap, c'è un momento del rap che comunque ne stanno uscendo un po', da Palermo, da Catania… Esatto, ma era un discorso che appunto facevo anche con Carlo, che mentre la scuola napoletana si è molto avvicinata a tutto quello che è stato poi R&B, tutto quello che è stato molto hip-hop. Invece, poi in realtà, anche dalla Sicilia, però la Sicilia resta sempre un pochino più cantautorale, alla fine, come linguaggio, forse anche come estetica che riesce a tirare fuori. Sì, c'è, per esempio, rappresentante di Lista, no? Sempre Sicilia, che però è interessante, perché secondo me sì, cantautorale sì, però poi ha abbracciato il pop in una maniera incredibile. Poi appunto, come dici tu, con la pesce sì, effettivamente, però loro stessi, per quanto cantautorale lui e Di Martino, hanno abbracciato anche loro il pop, no? E poi c'è tanto rap… sì, è difficile secondo me. Sì, sì. È difficile perché poi devi comunque fare dei viaggi a Milano, no? Al di là di tutto. Sì, poi c'è la nostalgia del mare, insomma, quanto è vero la nostalgia della grappa per voi, però… Ma io un po' il mare… in effetti non abbiamo un mare bello, però un po' mi piace… Io ho fatto quattro stagioni come bagnino, ti posso assicurare che il mare ha un richiamo che proprio ti trasporta. E comunque le acque di Bibione, comunque della costa diatica sono molto pulite, al di là che sono brutte… Ma il bagnino lì, non serve il bagnino, ci sono sette chilometri prima di arrivare a 45 minuti. No, no, lo facevo a Bibione. Cioè lo facevi a Caorle per Bibione e dovevi stare a Bibione? No, a Bibione, a Bibione. Bibione che è un'altra località di mare. Sì, sì. Sì, è un visit… E lì servono. È una puntata visit Veneto questa qua. Sì, assolutamente. Abbiamo le Dolomiti, abbiamo il mare, abbiamo i fiumi, abbiamo tutto. Tutto. Cioè non serve il resto dell'Italia, veramente. C'è l'Italia miniatura. Puoi fare tutto lì? Sì, è vero. Il prodotto interno del Giappone. Esatto. Tipo quelle frasi… Superiore, anzi. Superiore, esatto. Invece, tornando, quindi superato quel momento in macchina, avete iniziato ad ascoltare musica per i fatti vostri, decidendo cosa sentire e volevo sapere un po' come vi siete avvicinati a questa urgenza o consapevolezza o necessità di fare musica. Prego. Io racconto una storia più breve di lei per motivi, cioè, senza grafici, di carriera ormai profonda la sua. Qual è la domanda? Mi hai chiesto che cosa hai cominciato ad ascoltare e come mi sono avvicinato. No, no, quando hai deciso che dovevi mettere del tuo in questa… Ma in realtà mia madre mi iscrisse quando ero alle medie a scuola di canto e mi sono accorto che più o meno era l'unica cosa in cui ero bravo, perché non ero bravo a scuola. Ho capito di avere un deficit, diciamo, di attenzione e anche dislessia. Quindi l'unica cosa che realmente mi sono sentito dire bravo era quello che mi ha messo canto e ho detto, cavolo, che è il mio cane, che elasticità, bla bla bla. E lì ho pensato, beh, wow, potrei portare avanti, cosa che non ho fatto per diversi anni, perché mi vergognavo a cantare in pubblico. Poi ho conosciuto un amico nella mia stessa scuola superiore che faceva musica, sostanzialmente produceva, stava lavorando con altri artisti e poi gli ho detto, beh, cavolo, però, sta roba volendo potremmo farla anche noi, noi due insieme, tu sai suonare, io sai cantare. E da lì abbiamo iniziato facendo una cover dei cani. Perché la bacio ovunque? Bravissimo, bacio ovunque. Shout out, tu bacio ovunque. E dopo da lì abbiamo cominciato a caricare i pezzi su YouTube, ti sto parlando del 2016. Abbiamo cominciato a lavorare con una etichetta di Roma nel 2017 e poi successe tante cose fino a giorni stupidi nel 2020. Però, insomma, questa urgenza è nata dal fatto che comunque si passava tanti pomeriggi lunghi senza sapere cosa fare. Quindi nella mia piccola, piccolo paesino ci stava, insomma, una ventata di cose diverse. Figo. Per te invece, Michele? Per me è stato seriamente, allora mi è sempre piaciuto suonare, a quattro anni mi hanno regalato un buon tempi, mi piaceva, mi mettevo lì a suonare, mi compravo le partiture, che poi non leggevo solo gli accordi e avevo capito come suonano gli accordi, ma non sapevo leggere la musica ancora. A dieci anni faccio il conservatorio, violino, mi prendono al conservatorio poi due anni dopo. Arrivi terzo? Arrivo terzo su cento, bravo. Che ero tutto orgoglioso, in effetti, perché non era una roba… me l'hanno venduta come una roba… non una roba facile, statale. Così, e faccio il classico mentre faccio violino, al terzo anno di violino mi esplode il cervello a 16 anni, perché un po' è richiamo della figa, cioè forse. O comunque il fatto che non puoi fare cinque pomeriggi a settimana, teorie solfeggio, violino, piano complementare e alla mattina fare il liceo classico. Il liceo classico è un inferno. Insomma, è un po' la mia insegnante ungherese che ce ne ha messo un po' del suo, che bacchettava quando sbagliava, cioè… Complicato. E perciò passo a ritornare alla tastierina, mi faccio prendere una Roland e conosco un ragazzo, un amico che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Padovano, che ha già il Mirage, 8 beat, un campionatore, fa già musica elettronica con la Time, e comincio a comprarmi due cosine e a provare a fare musica elettronica, musica dance. E mi gaso, mi gaso della possibilità di fare tutto da solo, no? E poi in realtà nasce per caso, perché facevo l'animatore a Caorle, finito i miei 12, cioè 20 anni o 18 anni a Caorle con mia madre, l'anno dopo conosco degli animatori che lavorano per il comune di Caorle, finisco il classico e mi chiedono se voglio fare l'animatore con loro per i bambini per guadagnare due lire. Lì conosco un artista che era appena stato firmato a BMG ed era con la Maionchi e Salerno, un certo Leandro Barsotti, che era il fidanzato di un'animatrice che mi chiede, ma visto che io da nerd mi ero portato un computer e il campionatore una tastiera a Caorle, perché alla sera invece di andare in discoteca stavo da solo a suonarmi il campionatore, ma non vorresti lavorare per il mio prossimo disco? e da lì nasce il mio primo collaborazione professionale a 19 anni con la BMG Ariole, con la Salerno e la Maionchi e faccio tre brani nel suo secondo album. Da lì mi innamoro, ero scritto a filosofia, mollo, cioè meglio, non faccio neanche il primo esame e comincio a mettermi seriamente. Dieci anni di gavetta, a 29 anni, ritrovo Salerno e la Maionchi a 29 anni. Ah, quindi passa una vita. Nel senso, come tu sai, in America dicono le famose diecimila ore, ci vogliono diecimila ore per imparare una professione creativa, ci vogliono e perciò io faccio struggle, non ho una lira. Possessionato. Ti è possessionato, però mia madre vorrebbe che io lavorassi in banca come lei, perciò dico di no, però poi dopo dieci anni che ci provi vedi che non arrivi a fine mese, però ti compri la batteria elettronica, perché poi al tempo non si poteva fare le cose col computer e non c'era internet, perciò devi leggerti dove andavo, in biblioteca, comunale, a leggermi i manuali in inglese, per capire come programmare, prima in C++, l'ISP, Fortnite 77, perché ero fissato anche con la programmazione. Che sono dei linguaggi di programmazione, che non c'entra niente con la musica, e avevo quella fissa lì. Da lì so che in biblioteca trovo tutto, perciò comincio a comprarmi le cose per come comprimere, come equalizzare, cioè fare anche il fonico di me stesso, insomma, dieci anni di follia, di divertimento, ma anche di struggle proprio. Smanettato a tuono comunque. Struggle perché non c'è una lira. E poi a un certo punto ritrovo Salerno e la Maionchi, che mi propongono due artisti, un certo Emanuele D'Abono, che poi è stato anche un autore per Tiziano e anche ha fatto una sua carriera solista, e Tiziano. E comincio a lavorarci e a distanza di sei mesi, sette mesi, lo firmano i Nemi. Giannini, Fabrizio Giannini, lo firma i Nemi e poi da lì... E per la storia. Esatto, sì, sì. Quindi comunque ci sono dieci anni... Nel mio caso, sì, sì, sì. Da 19 ho fatto il primo disco con BMG e ho fatto due Sanremi con Barsotti, ho lavorato con Cecchietto, nel frattempo ho fatto tante cose, ho prodotto Sabrina Salerno, ho prodotto di tutto, cioè tutti i generi musicali e poi a 29 anni rincontro Salerno e la Maionchi che avevo perso di vista e mi propongono questo ragazzo. Questo è un bel messaggio per tanti ragazzi che magari si deprimono perché in tre anni, due, tre anni... Lo dico sempre a tutti, cioè ci vuole un... Sono anni diversi e adesso magari hai più visibilità... Però ci vuole sempre tanto, eh? Sì, secondo me noi siamo purtroppo abituati a vedere gli ultimi cento metri del percorso di una persona e questa cosa qua è tossica perché dici... A parte che quando mi succede di pensare, insomma, di avere questi brutti pensieri mi viene anche da dire, ok, ma se fosse successo, se io mi sentissi realizzato adesso, che cazzo fa? Cioè, non so, quella roba lì a parte che non finisce mai, il senso di, cioè, raggiungi un punto e poi c'è quello dopo e poi c'è quello dopo, ma poi poi la figata è anche soffrire per sta roba, non averla in due minuti. Però tutto nasce da una passione, solo quello, solo la passione, perché io non ho anche mai pensato questa roba sia realizzata o non realizzata, cioè io ho una passione, come penso che Nicolò abbia la passione per la musica, per la scrittura, per il canto, io ho sempre avuto la passione proprio banalmente per trovarmi in una stanza piena di tastiere, di lucine, proprio anche, c'è proprio un aspetto secondo me super infantile, nel vedere delle, se tu passerai mai nel mio studio, Nicolò c'è spesso, sembra un'astronave, ma non so, forse sono io che la cerco di creare, è pieno di luci, è pieno di contatti, è tutto molto cablato bene, c'è una maniacalità. Tu sei come un bambino in sala giochi quando parli delle tecniche. Sono proprio così, ma lo ero anche quando non avevo un cazzo, perché in quel poco che avevo me le disponevo in una certa maniera, cioè mi sembrava il mixer, avevo una stanza di 9 metri quadri dove dormivo, la mia stanza da bambino, e lì ci doveva stare sia il letto che la scrivania, ma anche le robe di musica, perciò l'unica maniera per fare stare il mixer era metterlo così, e io mi ero fatto fare da un amico, una roba di metallo dove io potevo appoggiarlo, quella roba mi metteva allegria, vedere questa roba, questo mixer alzato, con le lucine che si accendevano, che magari costava niente. Il discorso della soddisfazione, io intendo dire anche che comunque uno può andare anche avanti all'infinito, però comunque avere un riconoscimento dall'esterno che il tuo tempo ha un valore fondamentale, quello è il discorso. Anzi, lo dico sempre, una delle cose che dico, oltre che ci vuole tanto tempo e bisogna imparare un craft, qualsiasi craft sia, e anche aspettate, ci vuole anche un successo a un certo punto, un successo per la musica, intendo dire una canzone che vada bene, perché quello ti dà una sicurezza e la dà anche nei confronti dell'artista con cui lavori. Io mi ricorderò sempre quando ho lavorato la prima volta con Lorenzo, con Giovanotti, arrivavo comunque da un tiziano che aveva già fatto, mi sembra, due dischi importanti, come ero solo attivo a 111, è chiaro, ed ero ancora giovanissimo, avevo, posso fare due conti, poco più di 30 anni. È vero che per oggi non sembra poi così giovane, ma per una volta i produttori avevano 50 anni, cioè affidare un disco importante a un trentenne, un ventottenne, sembrava impossibile, no? E invece Lorenzo fu... Se non per la scommessa. Sì, fu più che intelligente Lorenzo nel capire, non so come abbia capito tra l'altro, perché ero di un'arroganza, ma mi dicono che sono arrogante adesso, ma a vent'anni ero borderline, cioè proprio... Intrattabile. No, no, più che di una sicurezza in me stesso, esagerata, cioè perciò vi ricordo di aver detto delle cose brutte, un po' così esagerate, però lui invece ha capito evidentemente. Un altro passo con cui volevo parlare con voi è quando avete deciso di venire a Milano, posto che sia una cosa che vi ha creato dell'aspettativa, dello sbattimento, del disagio, della sofferenza e anche delle gioie, che però immaginandomi il vostro percorso secondo me poteva essere un elemento comune, ecco a... Sai, intanto stiamo parlando di quanto sei venuto a Milano, vent'anni fa? Sono venuto a Milano nel 2004-2005, non mi ricordo, sì, vent'anni fa. Io sono venuto invece due anni e mezzo fa. Allora, cosa devi avere per venire a Milano dalla provincia Veneta? Posto che il maestro viene da Padova, che è invece una città importante, e io invece vengo da una provincia di Venezia, di un paesino di venticinque mila anime. Ti serve intanto il giusto supporto? Io ho cominciato a frequentare Milano dopo aver fatto giorni stupidi con i ragazzi di Digital 2000 e quando dovevo venire a lavorare con i producer, piuttosto che incontrarmi con qualcuno, dovevo dormire da Walter, che è il mio manager. Poi cominci a venire tanto spesso, cominci a prenderti sul serio perché a quel punto puoi o prenderti sul serio o lasciar perdere. Certo. In quello incontro anche Gaia e allora ho fatto uno più uno e ho detto, vabbè, qui a Milano vengo ogni settimana. A questo punto ho poi trovato l'amore e tanto vale rimanere qui e quindi mi sono buttato e per fortuna nel frattempo mi sono laureato e ho anche una famiglia, mia madre, che gli ho detto che devo prendermi almeno un anno o più per provarci seriamente e mi ha dato la possibilità di farlo. Non nel senso che mi dia dei soldi, però solitamente hanno delle aspettative, capito? Non puoi non fare niente. No, vabbè, comunque insomma c'è stato del… Cioè arrivi a un punto in cui dici per forza devi venire a Milano, non è che puoi far finta. Io avrei voluto sognare e dire non sono quell'artista che deve per forza venire a Milano, ma alla fine devi venire per forza a Milano. Soprattutto perché per come è andata la mia breve carriera i contatti sono tutti qua. E le opportunità comunque anche, cioè la sensazione che ci sono dei luoghi anche senza dire opportunità o contatti, però ci sono dei luoghi in cui succedono delle cose molto più in fretta e anche in maniera molto più spontanea magari rispetto a lavorare da casa dove magari per un producer può funzionare meglio oppure no, non lo so, ecco… Lo so, io sono venuto molto tardi, proprio anche non sarei mai voluto venire forse, ma per pigrizia, io penso che al di là della musica dove non sono pigro, perché lavoro tanto, però per tutto il resto sono proprio uno pigro, perciò pensa sono venuto anche dopo il secondo disco di successo di Tiziano, cioè dopo 111, io ero ancora a Padova, io facevo i dischi a Padova e di fronte al mattino di Padova mi ero affittato una piccola ufficietta dove facevo i dischi lì, bruttissimo, cioè bruttissimo nel senso che non era trattato acusticamente. Poi però la mia fidanzata dell'epoca diventa la personal manager di Tiziano, perciò in qualche modo deve venire a vivere a Milano, perché anche lui si era trasferito a Milano e poi vabbè, poi viaggiava in tutto il mondo in quel momento Tiziano e anche Daniela. E perciò io, proprio dico, non vedevo più la mia fidanzata, perciò mi sposto per seguire lei, non perché forse dovevo fare la mossa di spostarmi a Milano e tant'è che la zona dove ho lo studio adesso e dove ho anche comprato casa era la zona dove lei vicino lì si era trovata una casa in affitto, perciò la prima casa in affitto la prendo l'ha attaccata in via dei Fontanini dove sono. È il tuo quartiere quindi? Sì, è diventato il mio quartiere. Però forse un produttore oggi, la verità è che se ti devi far conoscere devi stare a Milano, forse se hai già un po' di movimento la gente ti segue, a meno che non vai, non so, veramente in Calabria o in un posto, che poi parlavo oggi con Magico Toni Tumilli, che non sapevo che era da noi, che l'hai visto anche tu prima, e che io non sapevo che il treno veloce è arrivato fino a Paola, fino in Calabria, Paola fa sette ore e ci mette da Milano, diretto, cioè è pazzesco. Anche la Calabria, il mito di dire come faccio a raggiungere Calabria, sette ore sei lì. Però dico, forse potresti, se fossi di nuovo a Padova non cambierebbe molto adesso, perché magari prendi un treno che poi entro 4-5 anni, ci sarà anche un'ora e dieci per arrivare a Venezia. Certo. Si può fare, si può fare. Invece volevo... Cioè, immagina un ragazzo che vuole emergere. Ho detto, un ragazzo che vuole emergere, no, deve stare qui. Uno che, già Zef, oggi potrebbe andare dove vuole. Sì, sì, certo. E dico, Marz, di cui abbiamo parlato prima, o qualsiasi altro, insomma. Anzi, ti dico, arrivi a un certo punto dove quasi fa Q, abbiamo in America così. Certo, che vengono da te. Per esempio, molti produttori in California, a Los Angeles, magari fanno uno studio a O.I. O.I. è un posto molto carino, che è l'interno di Santa Barbara. Ok. Santa Barbara è un posto. Montecito e Santa Barbara sono il posto dove i veri ricchi vanno a vivere. Pazzesco. Perciò c'è da Oprah fino a... c'aveva Michael Jackson la casa, c'è Steven Spielberg, eccetera. E all'interno c'è questo posto che era di hipster negli anni settanta, che si chiama O.I. È scritto O-J-A-I. Ok. Che ora invece è diventato super high, capito, insomma, alto livello e fanno gli studi proprio perché c'è ancora molto countryside e ci sono dei studi bellissimi lì e dove vanno a fare, magari staccano per venti giorni e poi è un'ora e un quarto, non è venti da... È la nostra Toscana al momento. No, è più pavì le zone quelle che adesso stanno ripoliticando. È figo andare a fare il disco in Toscana, no? C'è quella roba lì. Sì, sì, no, certo. Sì, 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 sì. Potresti farlo. Cosa? Prenditi un casale in mezzo a... Ma no, ma io sto così bene a Milano, è bello. Cioè, collegato a tutto, si sta bene. Poi dove sono io comunque non sembra Milano, no? Cioè, non è proprio Milano, Milano. No, poi tu hai la fortuna di avere una realtà... Sì, 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 sì. E come e quando vi siete conosciuti per la cosa delle bestemmie sempre, non per la musica, chiaramente? Abbiamo provato a rispondere giovedì scorso, che stavo suonando a Claire, cantando. Poi mi dicono che tu non suoni, canti. Cantando. Mia madre, questa. Deve sempre buttarmi in giro. In realtà, ora che ci penso, ti ricordi la prima cosa che mi hai detto? Che avevi visto un reel, quello che... Certo. Mettevo le croste della pizza. Bellissimo. Lui ha visto quello, ha detto, vieni in studio. Poi ha detto, ah, ma canti pure. No, mi aveva parlato Leonardo Zaccarini. Maria di te, che è un mio artista, è anche un autore bravissimo, coautore di tante cose, ma anche di Taramara. E me ne parlava, proprio nel periodo in cui poi vedo uno dei suoi reel, migaso di brutto dei reel. E poi mi accorgo che di giorni stupidi, perché non avevo mai legato, ho capito la... Vabbè, poi insomma è nata una magia, secondo me, che continua non solo Taramara, ma altre cose. C'è questo pezzo, si può dire? Questo pezzo che esce questa notte. Sì, certo. Un pezzo che esce, tra l'altro, che io ho coprodotto insieme a Simo, suo e di Leonardo Zaccaria, escono insieme. Si chiama Profumo di Dolore. È bellissimo. Secondo me spacca. E come produzione siamo sul vibe del... Secondo me no, è un pezzo vagamente estivo nel suono, ma è bello, a me piace proprio, è una canzone bella, ecco, non saprei dire... È difficile perché il bello di lavorare con Michele è che ha una conoscenza così profonda della musica, che dici, vado da Michele perché voglio questa cosa qui. Qualsiasi cosa puoi chiedere a Michele, tanto te la fa, penso a livelli che sinceramente non trovi d'altra parte in Italia, almeno. Quindi, che sia... Vuoi una roba dance, una roba house, una roba elettronica, vuoi una roba invece più indie, pop... Comunque è bella, non saprei come definirla. E in questo periodo con che suoni siete, con che sound siete un po' in fissa? Non ti so rispondere. Con... Non lo so, ultimamente però mi tira le orecchie il maestro perché dice che è una cosa da nerd. Però io adesso faccio fatica ad ascoltare musica nuova, a parte Tony Tumilli che mi piace tantissimo come un artista, nuovo. No, per un attimo volevo portarlo, ma vieni anche tu con noi. Infatti, se l'hai stato figo. Ma lo conosci? In questi giorni ho visto... Ha droppato Jimbro che è un pezzo secondo me incredibile, video incredibile. Come si chiama Jimbro? Jimbro, sì, ma è bellissimo. Ma ascolta, secondo me spacca e spaccherà sempre di più, ma io non sembra che... No, ma invece io ci credo. No, 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 ho capito, ho capito. Credo che, allora, nasce come meme, Tony Tumilli, e ovviamente lui lo cavalca questa cosa, però evolverà... Falcino diventa geniale. Sì, sì, cioè adesso senza... non è che abbiamo di fronte De Andrè, eh. Però... Certo, certo. Però, cioè non mi stupirei, cioè sono pronto anzi a scommettere del mio che nei prossimi due anni vedremo, cioè un Tony Tumilli in ascesa. Ottimo. È un linguaggio molto nuovo, cioè originalissimo. E niente, in realtà abbiamo già parlato con il maestro e mi ha detto, vabbè, sì. È un percorso che tutti fanno, ma io l'ho fatto magari un po' in ritardo. Ultimamente sto ascoltando tanta musica vecchia e mi piace i progressi, io voglio riascoltarmi un po' i vecchi dischi progressi, quelli iconici, e non è che vado a scavare troppo. Figo. Per te come... Vabbè, oltre all'esigenza di level 2 in cui comunque sei andato... In effetti sto ascoltando tantissima musica elettronica, è sempre stata una mia passione. Ho iniziato con quella. Ho iniziato proprio facendo, no, col mio amico Valerio la musica per la Time, che poi ci rimandava indietro. Secondo lui non andavano bene le canzoni che facevamo a Maiolini, e perciò con la Panda tornavo, andavo. Però molto perché secondo me Fred Again mi ha aperto tanto la possibilità di farlo anche da producer, capito? Di fare comunque una IDM, cioè una musica un po' più intelligente, elettronica. Però per lavoro ascolto veramente tutto. Tanto minimal pop americano, proprio female minimal pop americano, bello, forte, semplice, conciso. Boh, adesso tanto... Ma anche tanta House anni 90, che poi non mi è mai andata via quella passione, anche perché c'è tanto quel ritorno continuamente. Tanto anche rock anni 90. Adesso mi sto riscontrando di Primal Scream, capito? Che secondo me spaccano lo Psychedelic Rock, prima Austin Roses. Comunque, come si chiama? Questi di... Oddio, ho un momento di... Fountains DC, sembrano gli Stone Roses. Hai capito di cosa parlo? Questo pezzo soprattutto, come si chiama? Me l'hai fatto sentire? Io ascolto quello che mi dice... Starbuster. Eh, ma è bello, non mi ricordo mai. Consigliere. Cioè lui, non so cosa ascoltare, e mi propone cose tra l'altro... Volevo solo dirti il nome giusto. Oggi no. Sì, Starbuster si chiama di Fountains DC. Oggi escono le prevenite per il... Domani, per il concerto di McGee, che mi hai fatto sentire fortissimo. Ah, ma dai. Da Amsterdam, Parigi e Londra. E non Milano, però. No. Però forse... Lo conoscete McGee? No. M-K-G-E-E. Spacca. Sembra quasi una specie di Sting. Cioè, allora, è difficile definirlo. Però è tutto chitarroso. Tutto è performance, perciò ogni video è lui che la performa, anche se magari non è ovviamente dal vivo, però è lui che è sopra un caravan che sta suonando la chitarra, magari con un tramonto, una cosa, ed ha usato luponi di chitarra elettrica molto effettati. Lui che canta da Dio. Ed è figo anche. Figo, melodie non prevedibili, però molto police quasi. Però non è police, non so, bellissimo. Me lo ascolterò. Allora, a proposito di gente che fa la roba molto bene, volevo fare con voi Got Talks. Quindi io vi dico... Le Brown James. Yeah. Un po' di attività e voi mi dite chi la fa meglio. Quindi, partiamo da Michele. Scrivere canzoni. Beh, Calcutta. E Petrella. Loro due, dai. Posso dire più di uno? Avrei detto Petrella, ti dico Giorgio poi, perché lui ha detto Calcutta. Comunque, metto le stesse livelli insieme a Walter Ferrari. Cantare canzoni. Cioè, intendi come... Eh, ma direi performance, allora. Performance? Boh, tantissimi. Dua Lipa. Scusa, anche Donico, eh. Cioè, comunque canta da Dio, Donico. Grazie. Nei grandi classici io direi sempre un Eros Ramazzotti, che comunque, ragazzi, è incredibile. Ah, ok. Cioè, lo dico perché ogni volta che ti canta in faccia che ce l'hai davanti... È incredibile. Sì. Sì. Vedi, non l'avrei... Non l'avrei pensato. Sì. Ti ho detto Dua Lipa. A me piace. Perché come performer è incredibile. Cioè, anche Post Malone come sta cominciando... Cioè, ha cambiato lo stile anche di performance, no? Sì, ho visto un reel l'altro giorno, forse abbiamo visto lo stesso. A piedi nudi che lui... Che canta... Si strappa la maglietta. Cosa cazzo cantava? Vabbè. Comunica... Scusate, no. Performance assoluta che abbiamo mai visto. Sto pensando, no? Adele. Cioè, dal vivo è incredibile. Cioè, ragazzi, niente può avvicinarsi. L'ho vista alla Staples Center. Ne ho visti tantissime al Staples Center. Ho visto Confibra e Marra. Ho visto Kendrick Lamar. Pazzesco. Però ho visto tante cose. Però... numero uno e il secondo e il numero dieci è Adele. Adele è proprio una roba un po' incredibile. Falle. Comunicare se stesso. Oddio. Tony Tumilli. Yo! Cioè, nel senso... Sì, c'era... Ti piace... Cioè, nel senso, chi è più bravo a comunicare? Sì, sì. Dipende, perché ci sono stili comunicativi che mi piacciono molto ma magari non sono obiettivamente così efficaci. C'è che non saprei comunicare se stesso attraverso le canzoni? Dici... No, più attraverso diciamo i social media. Fedez. Fedez. Dai, spacca. Cioè, si è un marketing man numero uno in Italia su se stesso e secondo me è Fedez. Ma ha senso, sì. È puntato molto su di lui e ce la fa. Sì, però comunque forse riflettevo oggi lavandomi i denti ma come diavolo è possibile che ci sia tutta questa attenzione per qualunque cosa che fa? Cioè, ma non c'è quella morbosità per tutti? Che secondo me è lui che la ricerca, no? Cioè, lui è attento a questa roba qui e è la cosa che gli... Non so come dire c'è un grip diverso perché uno... No, perché è bravo lui. Perché sei famoso più ti torna indietro cioè, lui si è posto in un modo... La first lady è diventata... No, però è comunque come dici tu è un talento perché comunque riuscirà a canalizzare così tanta attenzione per... Ma non ho capito tu stai dicendo di Taxi B che sta avendo... Perché non ho sicuro ci so benissimo tutto di Taxi B, eccetera Dovrebbero fare qualcosa assieme? sì, sì, ho anche sentito i pezzi Ah, ok non so niente allora ma non ho capito perché dici che c'è un grande hype non mi sembra secondo me sono abbastanza attento vabbè perché sai perché è chiaro che crea un grande hype anche perché sta tornando l'uaglione sulla traccia no, no, no perché non mi sembra una collaborazione così aspettata mi sembra veramente molto inaspettata certo, certo perciò in quello lui è sempre stato bravo però ti dico che è sempre stato bravo su tutte le cose che hanno a che fare con la comunicazione il marketing le idee comunque ragazzi io ci ho lavorato per un album intero lui spacca in generale ma infatti poi c'è questa cosa molto italiana di dire ah no ma è tutto marketing come se fosse una roba per cui non ci deve essere talento è tutto marketing ed è uno che capisce di musica che ha degli gusti che non ti fa vedere che comunque lui sa benissimo cos'è Andrea sa benissimo cos'è tu adesso non voglio farlo diventare che di colpa è il genio d'accordissimo con te per dire che conoscendolo comunque è uno molto più 3D che il 2D che ti danno i social poi ovviamente secondo me nel lato marketing e promo è molto più forte che magari che ne so come performer vocale ma questo è evidente te lo dice anche lui però posso dirti che anche in qualche gruppo che parla ancora di rap esiste in facebook io ti sono sotto falso nome Nico Edo nel senso dopo che lui appunto si è lasciato con la moglie lui ha un passato davvero rapper gli ascoltatori del rap vedono in lui uno che ha fatto veramente il rap quindi adesso vederlo tornare un po' arrabbiato non so se ha fatto il rap bisogna dire però è stato uno che in un momento in cui il rap si stava aprendo di più lui ha contribuito a farlo aprendo di più perché comunque l'isola che non c'è c'è tutto quel momento lì in cui lui comunque non era neanche in quel momento così cagato dalla scena si è imposto ha fatto tutto da solo si è pagato ha fatto nel senso è uno che è nella mappa del rap in Italia tu metti un punto che si chiama sedez capito non era sedez comunque per finire quel discorso della comunicazione è molto legato proprio all'idea estetica la direzione estetica che ama Tommy Cash non so se sei presente non ce l'ho artista estone che è pazzo nel cervello e fa una comunicazione ah ok 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 che è quello con i capelli lunghi pazzo furioso totale quelli con i buffi sono sempre migliori cucinare su internet migliore a cucinare su internet tu segui qualcuno Coso come si chiama sia Benny Blanco vabbè gli italiani devono essere no chi vuoi Benny Blanco che ha proprio anche lo show e anche come si chiama il rapper mitico che tra l'altro ho conosciuto l'Electric Lady oddio che anche lui aveva la lo show suo si oddio come si chiama Madonna Action Brunson ah tra l'altro sarà Magnolia e mi sa che hanno anche fatto delle puntate assieme hanno fatto featuring Benny Blanco e Action Brunson spalla spalla Giorgione Giorgione let's go e allora volevo chiederti nuova musica cosa arriva allora appunto oggi che è il 13 questa notte è mezzanotte esce un pezzo con Leonardo Zaccaria che si chiama Profumo di Dolore ed è sinceramente uno dei pezzi secondo me più belli che ho fatto mi piace tantissimo parte da una sua idea va detto e poi ho scritto una strofa e abbiamo cantato il ritornello insieme secondo me è proprio un bel pezzo poi la settimana dopo esce con Caro Wow e sempre prodotto da Simo sempre con Simo e Mixer Master del maestro del maestro Canova mi dico da solo e si chiama Pagina Bianca quindi domani tra una settimana un caro e poi tra due settimane esce l'EP ma volevo minimizzare l'EP poi si poi si esce anche un EP vabbè quindi cazzo a pallettoni let's go una dopo l'altra speriamo speriamo che me la cavo speriamo che me la cavo poi ho fatto giovedì scorso il live show in ascolto in anteprima perché ah dell'EP sì perché il 28 sarò al Valley Fest macerata in apertura a Nasca insieme a Rocas e quindi non potrò fare un race party quello sarà il mio race party quindi ho voluto fare questa cosa qui quindi c'è anche un po' di tour estivo sì qualcosa sì c'è appunto ho fatto il Clare sabato scorso in Veneto a Conegliano al Veneto Core e Valley il 28 giugno c'è il Valley poi aiutami poi ad agosto sicuramente ho Bisceglie e Piacenza che a Piacenza c'è quel festival che non mi ricordo il nome comunque c'è roba comunque c'è qualcosa guarda sui canali ufficiali come si dice come si dice in gergo trovate tutto e quest'estate fate un po' di mare tu Michele vai al mare vado in Sicilia ok poi Calabria provo Contorito Mill lui sarà lì tra l'altro dove in Sicilia vado a Caronia che non conoscevo vicino a Caruau vicino a Messina vicino anche abbastanza vicino a Cefalù ho degli amici americani che ci raggiungono e perciò è la migliore amichetta di mio figlio c'è una riunione e poi Calabria vicino a Vibo Valencia a Capo Vaticano ah bello molto bello non ero mai stato non sono mai stato tra l'altro in Calabria proprio mai neanche su un secondo Calabria io neanche la vedo solo perché vado a Stromboli tutti gli anni e quindi la vedo in lontananza quando si vede la Calabria vuol dire che viene brutto tempo e da Capo Vaticano si vede Stromboli perché ho visto proprio è una delle tre cose belle di Capo Vaticano vedere Stromboli ma invece no pare ci sia un mare pazzesco lì ma mi hanno detto sì fare queste cose qua si dicono sulla invece io me ne starò mi sa in Veneto perché abbiamo provato con i miei con i miei cognati e fratelli di Gaia a organizzarci ma uno sta a New York l'altro stanno a Roma quindi alla fine sicuramente ci faremo tranquillamente un mesetto in Veneto nelle spiagge Veneto così siamo tranquilli no anche perché poi devi fare devi anche riprendere dobbiamo rimanere esatto umido umile o umido insomma come si dice sì rimando umido ragazzi è stato molto bello grazie di aver troppo non posso dire lo stesso di aver viaggiato insomma di aver fatto un po' di movimenti grazie a te sia di temporali che anche finalmente siamo riusciti a vederci esatto o ti intervisto o non vieni no è una dinamica piacevole però adesso andiamo a farci un grappino dire due o tre bestemmie perché vi ho visto che che vi siete trattati grazie mille grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti